Mi sfidi a scoprire i segreti di Tolkien Pablo, eh? Accetto! La maledetta Tolkien Joana ha terrorizzato tutti noi! Ora dobbiamo fare anche i conti con Tolkien Pablo! Alcune persone giurano che questa applicazione, in circostanze particolari, diventi mostruosa. Potete guardare il video fino alla fine? Perché scoprite tutti i segreti! Raga, allora, siamo su Tolkien Pablo. Guardate che brutti occhi che ha! Poi cosa sta guardando qui? Oh mio Dio! What? Allora qui secondo me c'è qualcosa, per forza, perché se no non si spiega. Allora io direi di dargli subito qualcosa da mangiare, e poi direi di prendergli anche una pozione di morte. Ti mangi un po' di latte, poi ti mangi un po' di hot dog, giustamente. E però c'è anche una pozione di morte, che direi che sembra volerla proprio mangiare proprio così tanto. Cioè, proprio ama questa pozione di morte, quindi io direi ovviamente di accontentarlo e di dargli la pozione di morte. Avete visto? Gliel'ho dovuto dare venti volte e adesso sta guardando una cosa. Ma come muore? Oddio mio! Adesso è diventato tutto rosso? Davvero! Ma per davvero, per davvero, raga! È diventato pulito? Rimettiamolo a dormire perché, per carità, non voglio che mi infesti la notte. Cioè, tipo, che magari viene in camera mia e tipo fa... E poi io faccio... Che cosa succede se do per due volte la pozione di veleno a Tolkien Pablo, raga? Cioè, è questa la cosa che mi chiedo, perché è veramente strano. Poi guardate questo posto, è tutto quanto grigio, soprattutto i palazzi in fondo. E questo giochetto è molto difficile, ma poi, allora, vi dico, è difficilissimo. Vediamo questo gioco. Ecco, questo gioco, però, è impossibile. Così ho iniziato a giocare per guadagnare più soldi per l'altra pozione. Mentre giocavo, mi chiedevo quali fossero i misteri di quest'app. Cosa succede se do la seconda pozione a Tolkien Juan? Dovevo completare la sfida che mi avevate proposto nei commenti, perché più cervelli e più misteri! Che cosa si nasconde su quest'app maledetta? Continuate a guardare il video per capire! Posso comprare questa pozione. E lo fa! Adesso si mangia questo ossicino qua, perfetto, si mangia il polletto. E fra queste cose, niente, è scesa di nuovo la fame, raga, io non lo sopporto. Io ve lo dico, non lo sopporto. Comunque, vediamo che cosa nasconde. Guardatelo, madonna, raga, cioè, se ve lo trovate davanti, sul serio che caspita succede, vediamo, eh. Se l'è mangiata? No, non se l'è mangiata, ovviamente. Adesso se l'è mangiata, cade indietro e muore, questa volta è stato diverso. Vediamo se succede effettivamente qualcosa appena restartiamo. Oddio, si è diventato tutto più rosso! Avete fatto bene a propormi questa sfida. Pablo, come parli ora? Parli ora, pronto, io, io, pronto, io. Ma ti prego, basta, non parlare più, non mi parlare più. Ma è veramente maledetto. Ok, devo giocare un altro po' per poter prendermi la pozione di cura. Perché ora sono veramente interessato per la pozione di cura. Sì, però questa musica, mamma mia. Ora la domanda è, cosa succede se curo Pablo con la pozione? Gli darò un'altra pozione di morte e poi la pozione di cura. Esploderà tutto, ne sono certo. Raga, io ora posso comprare un'altra pozione di morte. Vediamo cosa succede se gli do questa pozione di morte. Perché sono veramente tanto curioso. E qui io mi chiedo, Pablo, morirà di nuovo e succederà la classica cosa? Oppure magari potrebbe succedere una nuova cosa che non si è mai vista? Perché questa dovrebbe essere la terza pozione di morte che diamo oggi a TolkienJuan. Lo stiamo facendo noi per la prima volta. Diamogliela. Aiuto. Allora, è morto? Ok, effettivamente qualcosa è successo, raga. Questa applicazione è veramente maledetta e sarebbe ancora più inquietante. Ovviamente ve lo faccio sapere, magari nel post community. Infatti iscrivetevi al canale per restare aggiornati. Se magari succede qualcosa qui in casa mia che magari c'entra con questa applicazione. Se magari, non so, sento delle presenze in giro intorno a me che magari potrebbe essere che TolkienJuan mi ha maledetto. Spero di no. Però ve lo faccio sapere sul canale. Se vi iscrivete, lasciate like. Però cosa succede se curo TolkienJuan? Questa è la parte più paurosa. Ora posso andare qui. No, dove caspita è finito? Qua. Ok. Prendo la pozione di cura. Aiuto. Accendo il volume così almeno sentite se fa dei versi strani. Ma tecnicamente non dovrebbe perché questo gioco ha fatto un po' strano. Guardatelo. Madonna, madonna. Vai, prendi tutto. Oh mio Dio. Raga. Ma cos'è stata sta roba? Oh santa, ma non ti prego da mi uccidere. Vai via, vai via. Annullo qualsiasi maledizione. Vai via. Com'è che si fa a togliere le maledizioni? Iscrivetevi al canale per annullare anche voi le maledizioni. Bene però. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo capito la sfida. Alla prossima avventura.